C'è tempo sino al 31 maggio per chiedere il bonus in denità di 2.400 euro come previsto dal decreto sostegni rivolto a quei lavoratori e a quelle lavoratrici interinali che tra il 1 gennaio del 2019 e il 23 marzo del 2021 hanno avuto contratti di somministrazioni in settori diversi da turismo e stabilimenti termali. È la CGL che ricorda quest'opportunità, in questi giorni il patronato Inca CGL diretto da Dario Angelucci e al lavoro per supportare i cittadini nella compilazione delle domande. Parliamo per il bonus di 2.400 euro rivolte ai lavoratori in somministrazione, meglio conosciuti come i lavoratori interinali che abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro fra il 1 gennaio del 2019 e il 23 marzo del 2021 a condizione di aver lavorato per almeno 30 giornate. I requisiti sono ben chiari e in Abruzzo c'è una platea molto vasta di potenziali utenti. Noi all'Aquila abbiamo poco meno di 2.000 persone che potenzialmente possono accedere a questo beneficio su una platea regionale di 15.000 aventi diritto. Quindi noi mettiamo le nostre sedi a disposizione degli utenti per inoltrare le domande che vanno avanzate entro il 31 di maggio del 2021. È un sostegno assolutamente importante, è compatibile con la percezione della NASPI, è possibile avere il bonus anche se si è titolare di un rapporto a termine, mentre non è possibile avere il bonus se si è titolare di un rapporto subordinato a tempo indeterminato, se si è percettori del reddito di emergenza e se si è titolare di pensione ad esclusione di quelle di invalidità.